e ciao a tutti ragazzi bentornati su you can watch italia ragazzi bentornati in questo nuovissimo evento che è iniziato ieri e oggi siamo subito qui pronti per un nuovo episodio di shogu vs gnambo la vostra serie preferita lo so che è la vostra serie preferita voi non continuate a lasciare like dovete lasciare like ragazzi per questi video contenutistici super iper contenutistici delle gnambo ovviamente vi chiedo un'iscrizione una campanellina il like mi raccomando è importantissimo e partiamo subito con le quest delle gnambo che un pochettino abbiamo già visto ok allora abbiamo le gnambo quest che come vedete sto già completando perché sono veramente veramente easy allora abbiamo la prima missione che vabbè fare lo stage 1 poi la seconda missione di fare lo stage 13 la terza missione di fare lo stage 28 senza continua anche questa qua è molto semplice completare lo stage segreto 2 che adesso andremo a fare perché io non l'ho ancora nemmeno sbloccato quindi e poi fare lo stage 45 senza continua e poi fare lo score attack allora qua c'è questo hidden stage che però non è il secondo è il terzo che comunque andiamo a fare ugualmente vi dico anche come si sbloccano in stage ora vado a prendere un secondo la guida nel frattempo sconfiggiamo questo perché tanto è inutile nel senso tanto è solo per averlo solo per completarlo che questo qui non è non è lo stage che ti sblocca la questa della gnambo ok allora intanto io vi lascio in descrizione il link di google drive di lux che è un ragazzo che fa tutti gli eventi le missioni le cose aggiunge robe anche lui quindi ve lo lascio in descrizione che comunque è sempre utile allora hidden stage 2 ora anzi no partiamo dal primo partiamo dal primo perché ovviamente dobbiamo andare in ordine allora lo stage segreto 1 ho dato questo qua è l'evento avete già visto probabilmente chi era in live l'altro giorno sa allora hidden stage 1 che noi abbiamo già puntualmente completato abbiamo sblocato in live si fa connettendo 12 puni ok fare un puni grande 12 nello stage 9 ok quindi fate un puni di grandezza 12 nello stage 9 e si sbloccherà lui per il primo stage segreto poi andando nella seconda mappa invece abbiamo l'altro in stage che io devo ancora sbloccare che bisogna connettere 22 puni tutti insieme nello stage 23 quindi andiamo nello stage 23 eccolo qui c'è il nostro caro amichetto vaso com'è che si chiama lui vaso densio vaso tipo una roba del genere e dobbiamo connettere 23 puni tutti insieme quindi vi consiglio scoppiatene e lasciatene solo quelli solo quelli più che ce n'è per esempio io cosa sto dicendo vabbè ragazzi lasciate perdere oh tra l'altro pezzo blu non so se ci manca non so se ce l'abbiamo già probabilmente si non lo so ora vediamo un attimo vai usiamo i puni di noco vediamo se noco ci farà computare la quest ovviamente poi l'evento è appena iniziato ma ci saranno video anche ovviamente sull'autoclicker video sullo score attack quindi iscrivetevi like campanella preparatevi perché ci saranno un sacco di contenuti qua ho sbagliato un attimo eh perché non vorrei ucciderla la tizia ma secondo me non sono 20 questi eh vediamo un po' secondo me non sono ok 23 quanti ce n'erano da fare 22 oddio per uno che culo che culo più culo vai ora vabbè ci spammiamo un po' di un po' di energy max non so se l'audio è troppo alto io spero che non si bughi come l'altra volta perché sono rivistando da iphone e puntualmente quando registro da iphone si bugga tutto quindi speriamo speriamo che non ci siano problemi di audio problemi di cose perché se no impazzisco dovrebbe uscire in teoria anche un altro video di show vs gnambo che però abbiamo registrato io e stef prima di questo ok addirittura nello scorso evento perché sono uscite anche le gnambo tipo ieri o l'altro ieri insomma il giorno prima di questo evento qua olè stai il segreto sbloccato comunque come ho detto prima mi lascio il il drive il google il link di di google drive così almeno le missioni sono tradotte in inglese però comunque riuscite a a farle quindi eccolo qui il secondo stage segreto adesso lo andiamo a completare ci facciamo anche velocissimamente lo score attack e poi facciamo la mitica gnambo vediamo un po' ragazzi cosa troveremo dalla gnambo secondo voi troveremo una zeta l'altro video vedrete voi vedrete voi cos'è uscito nell'altro video è stato un po' così l'altro video c'era anche stef secondo me è stato lui che non ha operato abbastanza fortuna no dai scherzo però vediamo vediamo un po' come come sarà quindi adesso andiamo ok vedete che la missione l'ha contata andiamo adesso nello score attack subito molto molto fast nel senso noi stiamo qui a perdere tempo ok vai facciamolo super super fast della serie tipo va si va via tanto è stef quello che si occupa di score attack diciamo che siamo un bel trio nel senso jackpot fa il comparto tecnico nel senso fa i video li edita li carica io li registro e stef anche lui fa fa dei video ogni tanto quindi si stef fa lo score attack io faccio gli impossible jackpot fa i video direi che siamo fatto una bella una bella una bella trio sembra ci sta ci sta ci sta ovviamente fatemi sapere che io lo so ragazzi che preferite me a fare i video dai dai lo so lo so stef un pochettino così dai lasciamolo ancora due o tre mesetti poi lo mandiamo via no scherzo 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 bam facciamo così facciamo uno score da cavolo di cane tanto senza niente non ce ne può fregare niente nel senso basta farlo non dovete raggiungere un determinato punteggio per l'altra quest della gamble si dovete fare 300.000 o più nella scorata comunque è molto easy pure quella sfida lì quindi non non sto a a dirvi come si fanno le quest nell'altra gnambo perché lo vedete nell'altro video e dai su vediamo un po' mancano 24 secondi bam facciamo più energy max possibili tanto per tanto per vai vai ancora ancora è un po' uno score un po' così nel senso potevamo fare di meglio ma non è uno score serio ok 10 secondi direi che ci finiamo qui ok 5 4 3 2 1 e stop perfetto non usiamo i continui perché tanto non ci servono e ora andiamo a slottare la gnambo eccoci qua il nostro punteggio wow mamma mia che punteggio incredibile un po' così però 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 a noi interessava solo la quest della gnambo quindi andiamo a ritirarla io spero ragazzi che l'audio si senta bene che non venga fatto cose strane eccola qui la nostra terza gnambo no seconda gnambo seconda gnambo perché come l'abbiamo fatta nel video dell'altra volta ora andiamo con la seconda gnambo qui abbiamo un sacco di cose da ritirare cosa abbiamo ah ok un'anima molto bene andiamo 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 mi raccomando like iscrizione campanellina mi raccomando è importantissimo qui gli altri punti buono buono andiamo 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 let's go siete pronti avete lasciato like avete lasciato like dai dai 3 2 1 vai 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 gira vediamo un po' vediamo un po' ok ragazzi se esce no spacco tutto ragazzi se esce no spacco tutto no nel sesso inutile però ci mancava però ci mancava però ci mancava ci mancava ci mancava un elma va bene va bene va bene va bene mi sono un attimino preso perché è uscita la cosa dorata un attimino un po' così va bene ragazzi quindi questo era l'evento iniziale insomma video introduttivo dell'evento che poi come sapete usciranno anche altri nel corso di questi giorni iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo grazie a tutti